Il suo nome è il suo nome Senegal Il suo nome è il suo nome Senegal Io non vedo alcun nome in Italia Potremmo chiedere il suo padre Se il suo padre è senegalista O italiano Perché C'è il suo nome Senegal E 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 il suo nome Senegal Beh intanto sentire Le storie che magari Si è abituato a sentire Magari in televisione Piuttosto che Sentirle dal vivo Comunque Ti colpiscono Perché Questi ragazzi hanno passato Poco più della mia età Hanno passato delle cose Che non è giusto Che dei ragazzi Si debbano affrontare Per poter fare qualcosa Del loro futuro Per poter scegliere Io sono Solo che lusingata E grata a loro Perché Mi hanno riconosciuto Un po' come Una soddisfazione Loro personale La mia riuscita Nel mio sport E quindi Anche per loro Io continuerò A fare A fare quello che amo E a cercare di Vincere Anche per loro Difatti Loro dicono Il mio cognome Giusto Che si dice? Giuff Giuff In Italia Mi chiamano tutti Diuff C'è Giuff Perché Gambia e Senegal Sono vicini Sì Iguale Senegal Anche Gambia Tutti Famiglia Siamo parenti Ma credo che anche Anche per Valentina Sia un giorno speciale Questo Sì lo è assolutamente Perché Non capita tutti i giorni Di incontrare Delle belle persone così